Benvenuti lufetti in questo nuovo episodio di Pokken Tournament per Nintendo Wii U Nello scorso episodio abbiamo salvato Mewtwo dalla corruzione e dalla pietra di risonanza oscura E oggi abbiamo anche sbocato il Mewtwo come Pokémon da usare E oggi cominceremo la Lega Chroma con la classificazione Ok, è stata una faticaccia ma ce l'hai fatta, sei alla Lega più alta Se ti classifici, classifichi, al primo posto qui ti aggiudicherai la vittoria della Lega Fairroom di quest'anno Qua incontrerai gli avversari più temibili che tu abbia mai incontrato Ma sono certa che tu abbia ciò che serve per vincere Cominciamo Andiamo un po' tutti alla medio-medio, alla carica lenta Andiamo con loro subito dai, così li proviamo Una cosa che non ho mai fatto, io fai un attimo in questo adesso E stoppa subito Lista mosse, io un po' Ok Che tanto vuoi vedere un pochettino le mosse? Wow, no, che Ed è, non è neanche nel senso potenziato, è livello 1 Che poi credo sia, credo sia a livello 1 Vai a guardare Ok Allora, mi fai un attimo fare una parezza, vi vedete come fa la parezza di Mewtwo, non male Se la fa come Mewtwo nero Allora, Weevall, allora, datene poi una calmatina, perché qua va bene tutto, però Allora, se vogliamo giocare in questa maniera qua Non ti piacerebbe affatto, per il mio Ok, io ho un flash, vediamo un po' cosa fa Uh, ultra dissonanza, usi subito Vabbè, questa l'abbiamo persa di sicuro Poi voglio vedere più o meno come funzionare il piaccio di Mewtwo No, però è una cosa micidiale Perché non ti avvicini? Perché non ti avvicini? Ok, troppo bello, usiamo Andiamo un po' Posso fare esplodi? Sì, esplodi Ultima dissonanza la tengo per, diciamo, il prossimo incontro Quando la sblocco Perché è sprecata Ha solo più 24 di vita Ah, assolutamente con l'ultra dissonanza Vai, ti faccio un po' di danno Così almeno vediamo quanto tempo te la tieni Alla fine non credo di utilizzare ogni singolo Pokémon, lo dico già Oh, allora, calma, allora, vieni qua Precci, noi puoi una mano Che ci sblocchiamo questa ultra dissonanza che non fa affatto male Allora Vieni qua Dove averla sbloccata, benissimo Sì, è cambiata la quella di Muto Nero Se dovrebbe essere diversa Lo vediamo poi alla fine dell'ultimo episodio Che metterò a confronto lui Contra la versione nera E vediamo un po' Sì, appunto, era di livello 1 Muto Diamo l'attacco, dai Non vedo l'ora di lottare Vediamo un po' Non saprei neanche Nel senso, potrei Allora, adesso voglio vedere un po' Io come mi qualifico Perché, nel senso Non saprei se fai 5 lotte, almeno in questo primo episodio O farne 10 Ok, mi spiace Ma Anche se sei un lampadario Non avevo pietà per te Ok, vieni qua Wow, ma il danno che ha fatto No, è micidiale, Muto Si vede che lo Un po' Quando faccio questo attacco qua Un po' Deve riposare qua Per 1-2 secondi Come se lo esaurisse Fare questo attacco qua Ma poi neanche te scherzi, vero? Non è che Sono così poco di ultra risonanza Sul serio Allora, Vicktini cosa fa? Fai recuperare un po' di vita, vero? Ok Bisogna fare molta attenzione Perché anche lui Non ha una ultra risonanza Non tanto da sottovalutare Quello è Risaputo Ok E finiamola qui Non vuoi finirla qui? Va bene Uh, ok Questo ha fatto male Ammetto Colpito E fine Anche perdere è divertente Già Non vedo l'ora Che arrivi La prossima lotta Ok Rose Con Suicun Ne fa tempo Vi invito a mettere un mi piace Barro non mi piace Scrivi al canale Con questa serie Questa serie Un giorno regolamente Ore 14 15 30 17 E per non perdervi neanche Un appuntamento Di questa stupenda serie Basta accendere la campanellina Delle notifiche Eh, usiamo Magneton Dai No ma quasi quasi Adesso poi Il fatto che non voglio neanche fare Vio troppo lunghi E per questo Voglio vedere come mi porto Con 5 prima 5 battaglie E poi vedere Ok Allora scudo Non mi fido Che ironia Prima ero Suicun Contro Mewtwo Adesso è Mewtwo Contro Suicun Nello scorso episodio Dico Beh, alla fine Era Mewtwo nero Quindi Allora Così Allora no Era così Ok Prendi questo Non avevo pietà per te Anche se sei il Pokémon Cusato il più in assoluto Non ti sia Non peste o scudo Una volta ogni tanto Ok Ok Non mi è neanche fatto danno E bravo Mewtwo Come difesa Non mi è neanche Non è neanche uscito a colpirmi Dai mi metti Dammi almeno un 5 pieno Per difesa No Voglio aumentare l'attacco Le risonanze aumentano Poi ancora una volta La difesa Poi aumentiamo la risonanza Quanto non la uso quasi Non la uso mai La risonanza con Mewtwo Di nuovo Contro Chandelure Ok Ok Colpito per primo Un bel po' di danni Adesso ho aumentato i danni d'attacco E' micidiale il mio Mewtwo Ok Uh Ho fatto un effetto negativo Uno status negativo Ormai tanto sei sconfitto Non è inutile Che fai tanto Adesso finalmente Posso usare il Magneton Vediamo un po' Wow Anche se l'ultima risonanza Ti colpisco lo stesso Non avere paura Che Non Pensi a te Pokémon Una cosa che potremmo fare Carina Sul canale Appena mi arriva tutto il materiale Se mi riesco a mettere a posto internet Se Bene Sì Se mi funziona l'apparecchio per l'internet Che ho comprato Una live Dove andiamo a A aprire un sacco di Figurine Di Dragon Ball Di nuovo album Di panini E poi andiamo a attaccarle Sfidiamoci Guarda che non perdo Guarda che non perdo Vabbè sia una cosa carina Come prima live La farò che la farò su YouTube Quello sì Però vi aggiornerò Magari una settimana pari Ma lo dico già Lo programmo già Così siamo a posto E non ci preoccupiamo su quello Ok Cavolo Eh guarda guarda Non si è sottovalutare Come Non dimi Come Io sì Sì sono un nemico E come avversario Ok Ma neanche io Appunto Addio Ah ultra risonanza Così Me la butti così Ok Ci sta Come cosa Dai Allora vieni qua Maledetto Di uno Ora recupero Con un punto Riesco a vincere Con pochissimi punti vita Altrimenti Questa è persa Appunto Ecco Poi c'è pure Questa Dragonite Che lancia Un sacco Di palle Di fuoco Mi spiace ma non perderò L'ultimo Contro di te In quale si è boccato anche L'ultima risonanza Che è una cosa Molto buona Di nuovo anche te L'ultima Eh ma dai Allora Via 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 Non mi fido Non mi fido Appunto Cavolo 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 Scudo 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 Ok Non ce l'ha fatta L'ultima risonanza All'attivo subito Fammi l'attivare Fammi l'attivare Non ce l'ho più Come l'ho detto Adesso si E mi ha sconfitto Non ci posso credere Vabbè ma ci sta Una sconfitta Su 4 vittorie Dai Scompare Ok Vediamo un po' Come ci qualifichiamo Ho vinto Divertente la lotta Eh L'ho perso Contro una Di posizione 71 Dai Arrivo 75 Ok dai Quante sarebbero 15 posizioni Meno Ok perfetto Allora Se andiamo avanti Con altre 5 Dai Allora Let's have some fun Alright then Time for battle Ok Vieni pure qua Ciao Lizard Da Ok, Pokémon di supporto, aiutami Vieni pure qua Cava, ho fatto anche la presa Non è, non è efficace, no Perché è come se fosse sparito il Pokémon di supporto Che scocciatura Ok, adesso ti ho preso Ma è sempre in ulteriore risonanza Fattore quello più pericoso Da schivare Non avvicinarti Ti prego, ti prego E via Via L'hai finita Non sei più blu I torni arancione Sì, è un arancione un po' rosticcio, sì Niente Spero di non perdere Perché altrimenti mi scoccierebbe Non riuscire ad arrivare in posizioni Diciamo già più alte adesso Ok, allora Vieni pure Preso Dammi una mano Ultra risonanza Vieni pure Cos'hai fatto? Non ti ho preso, cavolo Non sono riuscito Sì, mi fatti un attacco Con l'ultra risonanza Ma dai Charizard Come si è mai educato Ma dai Eh no Questa qua la perdo Se adesso la usa lui E niente Potrei Cercare di Inditeggiare il più possibile Per farle la finire Ma non credo serva Tanto lui sta anche recuperando vita Perfetto Dobbiamo cercare Appunto Supporto 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 Mi serve io Dammi una mano Eh no Sì Ce l'ho fatta Benissimo Ok, prima ha vinto Sta una sudata Questa Bravo Mewtwo Ok Aumentiamo La difesa Giusto? Sì Per esempio L'ultra risonanza La uso pochissimo Quindi Mi serve a poco Un altro Charizard Con Alan Alan con un altro Charizard Ok Non mi scoccia Però dai Un po' di varietà Non puoi mettermi due Charizard Nello stesso torneo Beh Nel senso Diciamo Non Nei cinque sconti Che si fanno Ok Cerchiamo di prenderlo Ok Perfetto Abbiamo per il momento Fatto il primo Attacco Anche il secondo Anche il terzo Allora Ficchiamo avanti Ficchiamo avanti Così Va più che bene Che avevamo fatto Anche la presa Ok Un sacco di danni Un sacco di danni Solo con Le presi Mi ha fatto Charizard Ok Ok Conto attacco Ma dai E vai Ultra risonanza Vediamo quello che riusciamo a fare Con l'ultra risonanza E niente E c'è con l'ultra risonanza Conto con Beh sì Lui va l'ultra risonanza Mictini Trociamo il supporto In fronte Un po' di vita in più Nei momenti critici Ok Andiamo Tocca a me Adesso la faccio una presa Ma come l'ho preso Ma dai Niente Questa qua la perdo Non riesco No 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 Non riesco A farcela La presa Non riesco E niente Affrontare E c'è la risa Come tu mi faccio Molta fatica Quindi Vabbè Ficchè Un solo Una sconfitta Partita Poi che Vediamo che Vediamo un po' che posizione Mettemi anche l'attacco Era una posizione E' una posizione Settantesimo Siccome non ribatte Quelli 59esima posizione 61esima posizione Anche questa qua Cos'ha un Weevil Non ho letto Non ho visto Cos'ha un Weevil Sì Vediamo un po' Ah no Ho uno Ho uno Sheptile Pokémon è lo starter Di Pokémon Deve essere Zaffiro E Rubino Zaffiro Omega Zaffiro E Rubino Omega Zaffiro Alpha Ce l'ho fatta Se potrebbe Vuoi pelati No Pelati No Ma non voglio cantarvi Troppo presto Però con questo E' diciamo Una pippa Come personaggio Come Diciamo Sfidante Oh che ultra risonanza Io chiamo McTinney Che mi dà un po' Di tutto Non mi sembra per me Visto la sua Ultra risonanza Bella Ci potrebbe essere Allora adesso Devo ancora vedere Come fare Perché mi scoccia Il fatto che non so Riuscito a far vedere E poi non riuscirò A far vedere Tutti gli altri Pokémon Quello sia una cosa Che mi scoccia Il fatto che non riuscirò A far vedere Di vedere tutti Volete per caso Un video Dove vi faccio vedere Un video unico Vi faccio vedere Un pochettino Tutti i Pokémon Con le loro ultra risonanze Che ho perso Potrebbe essere Una cosa carina Prima del Mewtwo nero E poi ci mancano E poi ci mancano Quei due Pikachu Ma ne farò vedere Che c'è solo uno Ah no forse cambia Vabbè se lo vedere Ci sono i due Pikachu Lui Abbiamo Charizard Che non ho mai usato Machamp E chi altro Non mi verrà niente Che quali Pokémon Ci sono ad altri Perché più o meno Gli altri Gli ho già usati Quindi Dove guardare A fin di più Guardiamo un attimo Quali Pokémon Ci sono ancora Mai 5 stelle Beccato Uh Gengar Usiamo loro Ok Gengar Te lo concedo Dai Ha fatto Mewtwo Può sparare Fiamme Non lo sapevo Potrà sparare Fiamme Dalle mani Ok Ok Fine Fine Mi piacere Questa Miniatura Del video Non ho Secondo Secondo Si chiama Mewtwo Quello Si Adesso Poi sicuramente Magari Entro fine anno Vi porterò Anche la versione P-Switch Con poi Anche i due DLC Che non li ho mai comprati Comprerò solo per i video Alla fine Per far vedere Anche ora E anche per poi Avercere anche un po' In collezione Entra la mia console E sono speranzoso Che il prossimo anno Vanno uscire All'interno Switch 2 E facciano Un altro titolo Dedicato a questo Per me È un bellissimo gioco Poi Vi so che deve già uscire Pokémon Leggende Pokémon Z Ah Stupendo Non vedo l'ora di giocarlo Nella regione di It's a Ipsion È la regione di Non è Sinno È la regione È Galar Ok Vedo l'ora di giocarlo E vedere Nel senso Magari delle nuove forme Per i Velta Sigarte Gli altri leggendari Sembra una cosa stupenda E anche introdurre Come hanno fatto Tipo Nei Tornati leggendari Hanno aggiunto anche Enamorus Il nuovo Pokémon Fare la stessa cosa lì Con un alto gruppo Sembra una cosa stupenda Anche se Lì diciamo Che Da quello che ho capito Da quello che ho visto Da quello che Mi sono anche un pochino Informato Al contrario Di leggende Pokémon Archeos Che era sul passato Lì vediamo Andiamo su un tempo Un po' più futuristico Da quello che ho capito Allora Weevall Allora Calmino Perché qua Ok Fiamme Come abbiamo fatto Dai Addio Weevall Ah uno ancora Ok col prossimo attacco Sì però Addio Ed è già livello 10 Me tu È molto buona Come cosa Attacco Uh bonus fortuna Cappelli neri Non ho mai fatto Non ho mai cambiato L'avatar Non lo chiedo Una cosa che non farò mai Come te Non c'è nessuno Bellissimo Dai 61esimo Bene Dai Quindi Nella prossima parte Di Pokken Tournament Continueremo La Lega Chroma Presumo Sempre con Mewtwo Però prima Mi avevo detto Vero più a vedere Quali Pokémon Ci mancavano Da provare Allora Pokémon Pokémon Partner Andiamo un po' Ci mancherebbero I due Pikachu Ci manca Sherptile Machamp Garchomp Charity Weevall E basta Ci manca 1 2 3 4 5 6 7 Si Si possono Fare Dai Quindi vi saluto E vi aspetto Nella prossima parte Ciao Lupetti 5 7 7 8 8 9 10 10